Tornati ragazzi, ecco Ok, bella, fatti il favore Elimina la storia di Resident Evil E metti quella di Sonic E se vuoi farla di Sonic Brava, brava Scepola Conti giocatore, ospita, continua Norma, avvia Eh? Eccoci ragazzi, stiamo avviando Sonic the Forest Stiamo avviando tutto quanto Cazzo Vai, mi aspetto Sto entrando nel gioco Sto entrando nel gioco Dai carica cazzo Dai, dai, dai Ok, ok Ragionamenti in corso Ragionamenti in corso Stanno facendo ancora Ragionamenti Cazzo Cazzo Tu, cazzo Tu, cazzo Basta, la smetto No Dai, stavo facendo un aggiornamento Questa forse è una delle mie parti preferite del Lost Quella Quella la verso la Sì, verso la Sì, che bello C'è Madonna, l'ho migliorato tantissimo Dai, fai Dai Moderatrice Vai Vale E sta caricando i contenuti Lo so Lo so Muoviti 98 900 Muovi Mi piace In settimo Sto entrando Sto entrando Sto entrando Sto entrando Ok ok Entra Entra And night Unice altissimo ok bisogna fare una versione neomelodica della os che cazzo si è baggato tutto ecco vai 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 è entrato scopietissimo senza pensieri la tua vita è un bene senza pensieri la tua vita sarà un cane allora oggi introduci cosa si farà niente allora ti dirò troviamo un punto di farci una base ma una base di quelle serie giusto nel senso che poi ovviamente nella mappa siccome è gigante te le spargi delle varie basi capito però facciamo per ora quella principis giusto giugio giugio come mai il bitrate è così basso 6000 kbs ma che senso 2000 oh my god io ho sempre 6000 kbs cioè si 6000 eh cazzi ok ah e rieccoci tu 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 raccolgo i sassolini la mattina per fare un po' di ecco voglio provare la fionda su questi gabbiani adesso dove la fionda vai fiondati ecco io intanto sto cercando davanti alla connessione inserbella corso allora vieni qua ok eccolo lì la mia connessione è una merda no è più difficile di quello che sembra ma vieni boom ho preso è successo una roba del genere dai ho un sacco di sete oh staccia ma perché kbs sono così rossi ma dai ti avevo preso che dupas queste 6323 ma madonna troppi quello è mio quello è mio quello è mio ma non è ok si sono accendo le luci dell'emergenza di video ok e adesso tra l'altro visto che ho preso tutte queste piume magari mi craft un arco ti craft un arco ti archeggi il posto minchia fuori sta piovendo ok allora ragazzi ci mette 30 ma in realtà noi abbiamo smistato abbiamo fatto un po' di razzia no di munizioni e cose varie in caverna ma non abbiamo visto che abbiamo preso munizioni di ogni tipo cioè da 9 mm del fucile delle cart e poi munizioni per fucile e poi c'è cartucce e c'è pallettoni tra cartucce e pallettoni non ho capito cosa cambia oh sono vivo sono dentro il mio culo va bene come si crafta l'arco due rametti una corda e il nastro ok ah ti vuoi far l'arco si si ok due rametti una corda e un nastro ok eccolo qui il mio arco la corda e io non c'ho il nastro e le frecce dai volevo farmi anche io l'arco basta ah le frecce mi sa che si fanno con le ossa no cosa si fanno le ossa cioè le frecce dai frecce ripiega ah ok che cazzo due rametti quattro sassolini e un ramo dov'è il falò a chi il falò eh si aspetta faccio io il falò così cuocio del cibo hai fame aspetta se hai fame fermo fermo a parte che è qua il falò qua ah ok va bene va bene e poi se vuoi ti rodo io del cibo ho la carne piena no volevo cuocere il mio così non spercavi il tuo vabbè allora si a sto punto faccio come eh cioè ah no non mi fa cuocere ne metto due ne metto tutte dai tre non mi fa cuocere come non ti fa cuocere no devo bere fai un altro falò fai un altro falò fai un altro falò bevevo senza morire allora se vuoi bere l'acqua del coso come cacchio si chiama dell'ucceano premi c'è scritto cosa che puoi premere eh bevi eh ok ma mi ammalo eh lo so diventa giallo però cioè sei l'unica acqua che puoi avere eh sì evidentemente eh sì ho le cose energetiche però vorrei evitare guarda che del mare proprio non si può bere giustamente salata la 35 dollari mangiamoci questa sì ok sì a posto metto ancora la carne cruda nell'inventare sì nell'inventare madonna che poche questa questa è questa ci abbiamo almeno del cibo ragazzi così che bello che bello starnutire con Bastian sei uno scellerato ho starnutito e ho dato un bacino all'aria ma le ostriche anche scadono guarda ce l'ho tutta variate ma allora le butto te l'ho buttata anche tu dai baci all'aria sì cioè guarda voglio vedere quanto mi sfamano le ostriche se la trovo eccola qui vai proviamo a mangiarla ossica ah crudo si può anche cuocere ok ho uno due tre cinque carne cotte bravo ehm sì io maledettamente sete devo trovarla a priscatole così abbiamo tanto cibo cioè perché io non borde cioè madonna sei cosi 80 cacchi ossica cruda faccio delle molotov quasi quasi sappi che niente il caddy l'abbiamo completamente perso perché non c'è neanche più sulla mappa vabbè lo recupereremo come l'abbiamo perso elvin ah senti proviamo la chat dinamica chat vocale aspetta che mi faccio dare molto a vine chat vocale di prossimità sempre attiva ma scusa ah ne posso fare un altro però come come scelgo il microfono che usa conteggio voci volume principale volume effetto musica uno due il coltello ma il coltello no metteremo alto ti faccio giocare di posizione di un tasso c'ho l'ascia no evitiamo ok ci sei? ovvio bene andiamo sono bello pronto possiamo mangiare quanto quanto aspetta che bevo vai bevi 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 che ti fa bene ok dobbiamo fare il filtro d'acqua guardare in pronte che lasci oh mio dio che strambo tu sei strambo eh si eh si dai 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 oh mi domina chissà più ciftici il tuo personaggio è strano fa paura e tu sei pelato quasi voglio giungerlo ci sta ah ci sta quindi laggiù dove c'è il fumo c'è un accampamento e lo sappiamo eh non meglio non andarci no infatti ah intanto mentre camminiamo no non posso camminare mentre guardo i progetti niente io la forza quasi a livello 4 aspetta fammi bere un po' questa è acqua dolce ok si puoi bere dobbiamo fare la borraccia eh quando possiamo quando potremo farla faremo quello almeno ti fa se bevi l'acqua non ti da l'infezione quella roba lì gialla ti ricordi si è molto utile non so con che criterio magari una borraccia filtrante ma in realtà no non ho fatto ma come no nel senso questa meccanica della malattia l'hanno aggiunta adesso ah è nuova ma allora da anche quella nell'abitudine aspetta che non faccio due frecce siamo belli pieni di roba ragazzi freccia ok 1 2 3 4 spero di non far avariare questa carne perchè è l'unico cibo che ho cioè non l'unico però non voglio usare le razioni militari ma io ho trovato una lampadina cosa puoi fare con sta lampadina scusa nulla un oggetto inutile non puoi craftare con sta roba armatura di foglie ok ho fatto un po' di frecce non puoi craftare con sta roba peccato vabbè dov'è l'arco aspetta fammi fare un'armatura di foglie che non si sa mai foglie concio le foglie ma ecco mi faccio anche la se proprio un altro la metto possibilmente ok ti fai l'armatura di foglie tu Aki per completartela no mi faccio la mazza quella col teschio ah ho capito oh si adesso si che siamo su the forest con questa ebbè aspetta un attimo Aki si si ti aspetto che non riesco a capire dove cacchio mi ha messo l'armatura di foglie sto coso eh in basso a destra sarà si ok ok minchia quanto protegge porca trota dunque eh va leggermente a scatti ragazzi no non so a me va fluido no ok si è ripreso dipende se lo stai tenendo a ultra alto ok cioè ci sono delle cose ultra però gira bene cioè non è ah quella caverna a destra l'abbiamo esplorata andiamo in quella 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 sul fiume ecco quella lì il tuo fiume è questo qua largo ok va bene oh c'è roba che bello che non devi più spaccare le che puoi aprire le valligie senza romperle con l'ascio che sprecavi munizioni per cosa Aki eh noi millimetri era ok c'è un indice cazzo evitali comunque è vero non abbiamo ancora visto non abbiamo ancora trovato i punti quelli là quelli là verdi non so se ti ricordi c'erano dei punti verdi no ma mi sa che li hanno levati quelli alla fine e allora come fai il punto è che hanno levato quelli per mettere dei modi più semplici per farti capire i punti di interesse semplicemente lo vedi da te capito magari andando avanti nelle caverne trovi i punti magari spunta una alla volta sì tipo quella cosa lì col caddy c'era segnata la X verde esatto capito capito sono già stanco oh my god eh sì è perché non ho dormito è vero tanto non riesco neanche a capire da che lato dell'isola siamo ho 70 fps minchia buono vai 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 bravo 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 guarda quante caverne ci sono intorno a noi uno e due finora più avanti c'è un'altra perché fa un po' minchia fa un po' siamo nella montagna sì dove siamo spawnati io spero solo che abbiano tolto quei punti inutili dove c'era tanta roba e le caverne erano tutte uguali ti ricordi quei punti lì tipo di rifornimento spero che li abbiamo tolti e hanno fatto qualcosa di esplorabile di più quella era la pecca oh 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 erano tutti in piedi i cosi qua cosa c'è buona corda per telene corda per altalene io non riesco a fare le basi in questo gioco non riesco a farmi venire voglia di costruire sai perché perché ti devi spostare molto spesso in questo gioco nel senso che devi girare tutta la mappa per vedere i punti le cose è il caddy però noi siamo coglioni quello era utile lo ritroveremo speriamo ciao luca spero che non sia l'unico che ci sia ciao luca ciao luca c'è un tizio che sale sull'albero ciao bello sì però vabbè finché andiamo via andiamo via andiamo via lascialo stare non andare non andare in contrapericolo se ci ignora ignoriamo ah ecco perché là c'è un accampamento loro lasciamo stare lasciamo stare lasciamo stare oh oh mi hai sentito sì il vino è rimasto indietro mamma mia che roba guarda che figo la 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 fronda la cazzali io sto cercando un punto dove costruire una casa però andiamo in questa caverna sì 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 infatti solo che tutto qua è la schiena che fastidio fermo c'è un cervo va bene che carne l'abbiamo al massimo però vai con l'arco con l'arco ok voglio provare ma guarda in che bella posizione che si è messo attenzione che l'ho preso bravo no basta no 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 basta questo pezzo di morto ah l'ho preso no no scappato dov'è non lo vedo più scappato sto pezzo di merda niente ragazzi abbiamo perso il cervo ecco vabbè sprecchista l'energia ce l'abbiamo la carne andiamo nella caverna sì sì vieni vieni giochiamo col cervo che palle dai l'avevo preso in testa dai come saliamo qui da qua da qua vieni vieni ma non dobbiamo salire eh sì invece eh da qui ah sì invece ne sto salendo io anche ai miei modi i modi di valentotto sono così belli ok sto nella caverna dov'è uh eccola qui uh ma oddio a parte questa roba che è veramente artistica a me non piace ma qua non ce l'avamo già stati infatti sì però non abbiamo aperto la caverna vuoi aprirla vai hai sentito la musica sì come va vi sto guardando sul pullman perché sto andando al supermercato tutto bene bello 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 oh mio noaki ok ok ma no ok non ci siamo già stati però c'è la fune da passarci da andarci col fucile vai ok 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 sì sì è un punto diverso rispetto all'altro totalmente diverso perché qui uh nastro buono il nastro molto molto bello ah già grande grandissimo bottiglia di bova buono mi curo io mangio già fame mi faccio anche io l'arco vai archiamoci vengo è come il numero dell'arco ma qua si scende ah ma qui c'è l'acqua serve il respiratore o il respiratore o le pin che non abbiamo eia non c'è niente e mo eeeh niente mi sa che non possiamo andarci questa caverna eeeh eeeh vabbè e vabbè ti ritorneremo torniamo andiamo a trovarne un'altra ragazzi dai ho sentito? buona live al massimo passo dopo a fare un saluto ok Luca capino porca messia i pipistrelli ma ma pensano pensano allora guidami guidami sarcarapa mi guidi wow che che punto bellissimo bello guarda com'è guarda per dio mamma mia poi la mappa è originale totalmente creata così bella cioè non è copiata la gala dana che cazzo è la gattina madonna ti giuro che pensavo che sto tronco fosse non lo so qualcosa di fermo ad aspettare che arrivavamo non so e vabbè puoi aspettare che mi faccio l'amazzo anch'io sì sì almeno devo allora dove cacchio ho il teschio se non accorda hanno teschi ok la c'è altro pomo quindi c'è un altro capamento di quei tizi guarda che bello come costruisce il ma si scende allora al posto dell'ascia metto uno aspettiamo questo ok una mazza volevo mettere uno ok l'ho messo che pare che non puoi mettere letter nelle nelle cose l'inventario il non cos'è che hai trovato niente ho visto che tipo i quarti segnatili oh villaggio sì sì l'ho già detto c'è un accampamento che noi eviteremo verosalmente villaggio accampamento uh hai visto non so ho visto qualcosa ci sono due che stanno facendo questi indigeni vuoi andarci no lasciamo stare anche nemmeno nella caverna no lasciamo lì proprio stare guarda che i villaggi li segnano adesso hai visto sì c'è il fumo no c'è proprio sulla mappa il segnalino dei villaggi io sì sì so segnalino di un appeso con allora oh mio dio quanto siamo in alta e avevamo trovato una foto che ci mostrava la posizione della pala ricordi posso vedere quello che tiene in ambientario e noi siamo da questo lato in teoria guardate quanto è grossa la mappa è un casino capire dove ok così mi è più chiaro minchia è vicinissimo a dove siamo noi cioè è praticamente dove c'è l'elico scusami è tipo qua arrivo allora o è dove ci sono gli indigeni ma spero di no qua davanti a noi c'è un'altra caverna nella montagna ma dovevo trovare una caverna per la pala può essere di sì può essere che sia questa qua questa caverna che abbiamo davanti ma è quella di prima che abbiamo esplorato sbaglio no non ci siamo stati in quella perché anche se vicino allo spawn abbiamo detto andiamo avanti dopo vediamo le caverne perché effettivamente era un po' pericoloso andarci senza ok ok quindi credo che a questo punto sia lì la pala quella della montagna dice o questa qua davanti questa qua davanti ok perché il punto della palla è lì se tu ti apri i fogli vedi che è proprio lì il punto no no ok mi fido mi fido tranquillo tranquillo aspettami che io sto morendo di di sonno di tutto e non posso correre che pasqua ok same ovvio bene minchia da proprio poco i mirtili danno proprio poca sete poca cacca livello 4 di forza i mirtili danno sete si ma è vero ti dissetano anche figata vado mangia un po' bene basta ok dai che ci sali qui bravo personaggio ma che bravo sto pene sto pene eccoci qui ok dovrebbe essere questo il punto si ok qua sotto ah è uguale eccoci questa di prima no è altra gente altra gente altra gente ok altra gente questa entriamoci magari in realtà l'abbiamo voglia vista la caverna ma non lo so davvero magari non ci abbiamo fatto il respiratore ma 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 è la stessa è vero è la quella è il odio sono un pesce madonna che coglione non so non prende o è necessario andare sott'acqua ma non penso secondo me si qua la pala non c'è si possiamo provare ad andare sott'acqua senza respiratore eh ma a chi c'è moriamo non lo so dipende da quanto è profondo intanto mi serve la torcia ma moriamo cazzo no ma non si vede un cacchio a chi sai devi mettere la torcia vediamo con la torcia ma non la tiene neanche se non tiene l'accendino manca la torcia tiene sto coso qua non c'è niente no dobbiamo scendere nell'acqua ne sono altamente sicuro secondo me andiamo a vedere quella caverna che c'è nella montagna chi magari lì ne troviamo magari c'è l'ispiratore quella là sopra ti ricordi questa vicina qua si si ho capito quello intendo proviamo ad andare là se no facciamo un viaggio a vuoto e qui stiamo qui per niente ah bombola no si bombola 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 quello del respiratore dov'è ritrovata? era dov'è? era qui vicino alla luce ah eccolo qua bene qua sotto può essere che si qua sotto oh c'è un teschio un'altra bombola ok quello della pala neanche traccia ma figure se la mettono così a caso è lì per forza oh niente vai andiamo in quella caverna magari poi è sta pala cioè è strano che c'è una caverna vicino a questa e qua devi trovare il respiratore magari è lì o quelle teorie là andiamo in quella magari funziona usa un telo per costruire un riparo perché ho la stanchezza al massimo che cazzo è vero amen vai allora dov'è di qua ok dritti per di qua state proprio qua vicino ci sembra strano che è così vicina oh cristo quello con la maschera non sono trovato davanti via 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 cazzo ce ne fott guarda a casa è proprio vicino all'elicottero a questo punto della mappa sono molto strano a questo punto lui caverna è così alla veloce dai i pesci vendolo non corri eh qua arriviamo alla neve se saliamo bene normale montagna a montagna montagna ok siamo quasi arrivati ok un po' di bianco un po' di neve e torniamo al punto dove siamo atterrati sponati schiantati più che atterrati spaccati no non riscosa di ok uff 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 ok se ti ricordi questo punto no eh si ok bravo valentone mamma mia quando siamo in alto ma che figo belle ste cose quanto amo questo gioco donna quanto ero in alto bastanti io se ho ragione che in questo c'è il respiratore io mi metto a ridere davvero cioè prendo e dico ah ma perché dovrebbe esserci nel senso come potresti fare ma cavolo non c'è niente abbiamo già razzato tutto e l'abbiamo già razzato tutto ok vieni 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 canna pa ma tra l'altro cos'è questa è una slitta tipo non si può usare rotta è una slitta rotta la slitta rotta ok eccola qui oh mio dio uh ghiaccio caverna con il ghiaccio ok ghiacciato stoffa cos'è soldi cibo in scatola quanta roba corde soldi puoi salvare dove qua ah puoi usare la tenda si bene intanto salviamo salviamo qua si è andato senza firmato bella bella la caverna così di ghiaccio uh oh quasi scende uh attenzione aspetta 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 non scende non scende un attimino no 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 ovvio cos'è bottiglia di vodka ok bottiglia di vodka e boh ok proviamo a scendere vai a sto punto abbiamo preso tutto vai oh mio dio oddio aspetta è buissimo ho l'accendino oh mio dio ah intanto coperta termica coperta oh a chi a chi vai vieni vieni piano oh aspetta sito b verso eh cosa scusami allora oddio no allora quella in alto è la montagna ok inversione ma che cazzo lì è tipo è profondo come la montagna l'oceano che cazzo c'è il centro il sito a non ho capito cioè non al centro della terra è una battuta ovviamente però c'è sotto terra tutto sotto terra oh mio dio non ho capito e non c'è nient'altro maledetti schifosi è un indizio questo di un qualcosa di davvero ma davvero importante porca miseria adesso che saliamo su dormiamo assolutamente non ho capito ragazzi perché in che senso non so o sotto appunto sotto terra nelle caverne o peggio eh troveremo troveremo sito a cioè noi in questo momento siamo sito b che senso mi dici che c'era un altro buco come nel primo non dei borsoni no ah oh la priscatole finalmente bella sta cosa buono buono vuoi dormire eh dormiamo dormiamo intanto allora dormiamo e salviamo e mangiamo con la priscata oh merda siete degli stronzi però a coglierci così di sorpresa eh e io devo mangiare mangia mangia vale no era variata vabbè ah mi ammallo con la scena è variata la mia è buona la mia è buona aspetta mi mangio il cibo in scatola devo ancora dormire ma ci sono questi stronzi finché sono sono qua sono qua arrivo 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 aia dai vai vai venite non ci fate paura coglioni aia mamma mia che mossa trepa merda ok morto occhio aia uia 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 pezzo di schifo coglione guarda quanti sacchettini aki prendili tutti si si li ho presi tutti altro vodka quanti sacchettini ok madonna che paura che brutta roba che è successa noi dormiamo arrivano questi poi c'è la bufera dio santo vediamo che cosa c'è uh buono snack più snack più con costrica cruda va bene va bene va bene allora mi devo curare no dobbiamo dormire ancora che dormiamo ancora ok ancora così diventa giorno se possiamo vai 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 si si poi poi dormiamo no ce ne sono altri di nuovo ma perché non ci vogliono lasciare in faccia non si può dormire e come prendiamo per levare il sonno ok vai vieni vieni è morto un altro ok ancora uno ah no è kelvin è cambiato ok stai ammazzando kelvin no 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 che palle stai seguendo kelvin dove va questo ma si scappa sto scemo dai vabbè evidentemente non ci conviene dormire in questo momento andiamo ma per se non spawn bastiani lo salvo allora sci allora eh vabbè andiamo non si può dormire vabbè no ho ripreso un po' di sonno eh l'ho ripreso allora dai andiamo a trovare un'altra caverna di notte purtroppo a quanto pare le caverne sono molto importanti da trovare perché c'è anche nel primo sono i punti esatto dove avanza la storia questa qua è davanti a noi ce n'è un'altra vieni vieni vai 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 oh cos'era bastano non si sa mai nicchia come si scivola eh guarda che pendenza che c'è cazzo donna guarda che vai in obliquo una volta prima non andava in obliquo sta roba il personino io prendo tutti i bastoncini del mondo qua che strano quel coso perché è bell'atmosfera site A site B ma secondo te che cosa vorrebbe dire quel site A site B non lo so perché si è fermato tutta la musica è sito A è sito B ah chi eh non c'è più nessun suono eh non lo so allora dopo il primo gioco mi aspetto semplicemente che anche qui ci saranno laboratori esperimenti e cose e quindi evidentemente il sito 1 è semplicemente una denominazione della parte dell'isola sì ma se dobbiamo andare così in profondità magari quella è la profondità di un qualcosa si fa inquietudine il fatto che c'è scritto inverso ma sai che vuol dire se la profondità è grossa quanto la montagna cioè esatto esatto cioè non era solo sotto cioè era in pendenza tanto quanto la montagna capito oh mio dio quanta roba botto di roba bibita energetica mamma mia teli buono altri teli è un piccolo accampamento dai dai io li salvo ah vuoi salvare ok li salvo anch'io quanta calma allora andiamo questa caverna qua dove vai dove vai andiamo qui si sale molto molto bello guarda c'è un'altra ancora vai è piena la mappa lo sai eh lo so meno male che hanno tutto sti punti verdi che erano un po' confusionari si poi davano farsi e basta c'era troppa roba Kelvin non so dove sia finito è dietro di noi è dietro di noi ah si lo vedo della mappa si c'è la k era gli abbiamo messo il radar è lì fermo o starà combattendo con un indigeno e l'avrà ammazzato bravo Kelvin arrivati oh dio ma cosa c'è su un lago su un lago una caverna ok ah ehi e niente ho preso l'anno la caduta dai dio si dai ok rumore ti aspetto eccoci qua l'ho aperto io oh dio ma cos'è questi oh già ma sono dottori hanno dei vedi che c'hanno la tuta azzurra tunica da dottore si si e poi c'hanno i fiori scienziati più che dottori perché i fiori va bene entriamo non so cosa aspettarmi sinceramente vediamo un po' torcettino no torcettino ho detto ah chi fai passare vai avanti mi stavi bloccando occhio eh candele che cazzo è il minerale è il minerale che è traslucido qua sotto si va tuniche e non abbiamo il respiratore un'altra bombola aspetta un attimo uh cibo guarda sempre tutto per bene ho troppe ossa qua si scende è apposito di ossa devo farmi l'armatura anch'io stoffa hanno un astrodesivo ok io in teoria si ce l'ho ce l'ho ma non sono due io ne ho tre c'è l'armatura ok vai una due quasi almeno sono potetto e tre ok armatura fatta e armatura completa quasi però purtroppo anche qui ci vuole il respiratore non so se ci può essere qua sotto oh 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 continua continua forse qua dietro o è la riuscita siamo arrivati che pasca eh vabbè non c'è niente 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 che palle allora andiamo a vedere la caverna sempre di sopra c'è un'altra ma su eh si c'è un'altra di sfiga oggi giornata di esplorazione ragazzi bello giornata di sfiga perché 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 l'altro siamo spawnati devo trovare questo cazzo di respiratore devo trovarlo per forza ok qua sopra proviamo a vedere no che dove vai ecco bravo qua dietro e dobbiamo salire ti aspetto ti sei fatto l'armatura ah questa esatto no ma c'è un po' di armatura ne ho ancora metà andiamo la torcia con il fuoco questa è bella alta si è più in alto ok sta diventando giorno perché ci vedo di più io prendo tutte le torce piccole del mondo che non si sa mai già siamo già bello sono il fuoco ah è la torcia di fuoco bravo che fai luce è un suono bellissimo vorrei farlo un'esperienza così nel bosco davvero sarebbe un sogno non so ok minchia se mi scappa da pisciare io nella caverna vado in bagno mamma mia no dove sono chi guarda dove sto salendo io oddio ce la sto facendo davvero però minchia scalatore provetto mi chiamavano scalatore provetto ma te lo giugio oh cazzo cado dai ci servono ci serve il modo di andare in ste caverne sott'acqua perché oppure quantomeno trovare qualcosa altro di utile qualche altro indizio vai magari questa qua oddio fa il fumo dietro cosa no tu fai il fumo dietro faccio il fumo nero cavolo è vero ma che figaggine infatti pensavo fosse un villaggio ma eri tu perché andava vai fine in cielo e non è che le rispono guarda si disperde che strano oh una to tombe come tombe 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 varie oddio madonna ma quante ma che ca- legno di bara sembra questo sbaglio o è quello anzi poi tutte che vanno ma in che senso trovo ma tutte che vanno verso l'alto poi verso la caverna verso la direzione della caverna è una strada proviamo a seguirla si si è proprio una strada una strada di tombe che cazzo è un deltaplano è il no non è un deltaplano è aliante se non sbaglio si chiama aliante pieghevole come si usa no come si usa magari buttandoti boh ma che figo aliante è lasciato un aliante ma caverna dov'è perché vabbè ah eccola la caverna qua dietro sempre tombe trovata si ma qua c'è qualcosa no aspetta arrivo un attimo in bagno in due secondi FK per due secondi guarda che mi ha eccomi eccomi qui forri forri sei pronta ad andare? si bevo solo un attimo vai bevi bevi anche io che numero hai? 5 e 0 ok andiamo l'ho bevuto anch'io ok attenzione un'altra cadena di ghiaccio qua però si va sotto con le varie monete oddio quanta roba cos'è? lance un foglio ah un altro progetto tre fili due tronchi otto ossa una batteria oh mio dio tre panetti di c4 credo che sia una una trappola esplosiva tipo capito credo sia quello scusa andiamo andiamo eh ok boh va bene tutto qui? va bene cioè tutto qui niente c'è un progetto allora beh però avevo trovato un aliante avevo trovato ma infatti voglio provare questo cavolo di aliante voglio dov'è? poi pieghevole il nostro inventario è infinito eccolo dov'è l'aliante? eccolo qua vorrei capire come lo uso si è rotto l'ho lasciato ah oh ah aiuto come? aia si ti devi proprio buttare ma che figo oh no ok vale andiamo no 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 non andare senza di me oh oh a chi? vale sto volando oddio sto volando aiuto no mi schianto mi schianto voglio scendere voglio scendere scendi vieni giù non mi schianto voglio voglio dai guarda se è scemo cosa deve fare scendi non scende non scende ne dice scendi voglio ok ok allora no vieni qua vieni qua amico adesso andiamo ok ok vieni qua vale vieni vieni ok andiamo di là da quella parte lì ok e come cacchio facciamo vogliamo vai vai grande vieni a chi e vai ok ok vai ci sono sto seguendo madonna ok ok oh mio dio che figo ma che figata vai ti sto seguendo ho imparato a guidarlo si 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 dopo che capisci come muoverti non sbattere nell'albero sennò e Kelvin andiamo nella andiamo nella caverna andiamo nella caverna troviamo una caverna sto cercando ma c'è un segno in che senso non so no 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 sali 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 su no 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 Aki no Aki e come cazzo lo riprendo io adesso ah già la vera domanda è come scendi senza morire ok piano piano io l'ho ripreso dai Aki vieni qua su ce la fai ho capito devo riprendermi l'aliante ah ok cacchio Aki però oh mio dio dove sei dietro di me c'è una caverna dietro di me c'è una caverna si qua dietro allora devo trovare il modo di salire poi basta andare è sempre di montagna ok è pericoloso usarlo questa cosa ah si abbastanza allora sei sicuro che è una caverna si si dietro di me io c'ho il qua dietro ho lo zoom fa il zoom ma è quella in cui siamo appena stati vale allora andiamo nell'altra di qua scendi giù scendi giù tu vengo con l'aliante vengo con l'aliante si vieni giù vieni giù guardami eh ragazzi non mi schianto devi premere giù per venire giù io sono qua vale vale aspetta che non mi voglio schiantare gli schianti su un angolo no no faccio così guarda che trucco uia 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 vale scendi merda cosa ho fatto anzi anzi non scendere facciamo così dimmi come ok buttiamoci andiamo per dritti che c'è andiamo a cercare una caverna in questa maniera è l'unico modo andiamolo dritti vabbè vediamo se c'è se troviamo qualcosa ok ah posso tenere il gps ah oddio ho preso velocità in modo assurdo ok posso tenere il gps che figo qua è pieno di accampamenti che noi evitiamo perché questi sono pericolosi c'è un punto interrogativo da noi dove davanti guarda davanti ah è vero quello blu ok andiamo lì magari non sia l'importante andiamoci magari c'è l'espiratore non lo so se lo spero dai vi prego dai ma assolianto è una figata comunque c'è la cosa che di un gioco manca di brutto c'è madonna innovazione pura perfetto per spostarsi velocemente su una mappa è innovazione pura cioè non è neanche complicato è qua sopra non è qua sopra si si è qua sopra davanti a noi ok ok dai ci arriviamo ragazzi è di qua ma dove dove trovate delle cose del genere cioè ok ci arriviamo ok dov'è il mio aliante oi ahia no aliante ok uno è qua dov'è il mio aliante dov'è il tuo hai segnato guarda che c'hai sulla mappa se vuoi guardare dov'è oh oh caverna e dov'è il mio aliante no guarda sulla mappa no guarda in basso a destra non c'è è qua davanti a me lo vedo io dietro di te ah è piccolino si è ciecato ok oh caverna è morto oddio ora lo locatore il localizzatore locatore locatore localizzatore oddio l'oscurità ah che non c'è non c'è la transizione rompi ancora ma chi sa non fare che ha la transizione è una roba bella no ci sono i filamenti come fila non mi piace ahhh brutta roba di tappese mi ricorda la cosa della mappa la caverna della mappa di the forest qui non c'è niente nastro isolante vito cosa c'è qualcosa che si muove in lontananza fermo ruba un po' di cose qui è chiaro però molto in lontananza ok non mi piace dio senti io sento passi pesanti oh oddio sei pazzo no 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 sta crollando tutto no sono gli scherzi corda guarda come sale corda che senso corda dove si sale non sto capito e si riesce eh non è uscita è continuo vai rompi rompi eeeh non ho capito ci siamo persi qualcosa scusa io li controllo bene infatti rientra e li controlla perché mi sembra strano aspetta via dietro via indietro no è solo un buco non c'è niente sto capendo ok controlla tutti gli scherzi magari con i caduti c'hanno qualcosa oh no non so se facesse sfaccare magari si con la bomba no 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 se ce lo farebbe capire il gioco no non c'è niente oh vabbè no è impossibile qua non ci sono due strade no posso bere l'acqua qui beh i localizzatori li possiamo usare comunque ci sono utili non mi controllare per bene anche qua non mi fido prima volta ci siamo aspetta ci me ne ha perso una caverna così a caso ma scusami come mai boh ho la sensazione che ci siamo persi qualcosa Aki eh ma se non c'è niente hai controllato bene il tipo eh che tipo con la il morto c'era solo il trasmettitore vieni di qua di qua andiamo un po' a trovare magari ne so voglio trovare il respiratore guarda abbiamo tre caverne vicine vuoi andare a trovarle il respiratore oppure la pala esatto uno dei due per forza a mani vuote non rimaniamo si va a fare pietrolina piccolina pietrolina piccolina picco 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 ecco saliamo così siamo allenanti giusto 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 così ci muoviamo più veloci giugolino carabino se non la cazzo adesso è male sei gigante e dai che ce la fai ma bravo bravo ma è che tu si perché io posso e sai perché io non esiste perché io posso dai stiamo vicino alla carriera a questa carriera con acqua alexa riprendo amazon music alexa no alexa nuda no c'è un tizio no c'è un accampamento no scusate mi spiace vi rubo un po' di cose ciao ragazzi ho batterie l'azione militare rubo 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 tutto non c'è più niente siete i poveracci del cazzo ciao peggio dei villaggi siamo peggio di loro sono più cattivi noi ciao luca boh io direi alle alle mezza sacchiamo andiamo a vedere solo sta caverna l'ultima l'ultima ma due caverne vicine sono e queste per cui c'è mamma mamma oh 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 elicottero dov'è si oh è qua oh c'è un elicottero dove va non lo so vieni da me vieni da me vieni qui siamo qua vedici no 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 qui qui scusa no 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 seguilo 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 è quel cazzo di elicottero ma che ca è venti è un evento questo no 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 ma ma seguiamolo seguiamolo non non tralasciamo porca miseria bastarda no se è andato ma porca miseria andato per di qua ma io non ci credo ma che palle ste montagne io ho detto o scende o ci droppano qualcosa tipo non ci ha cagato di stris di stris c'è una fila di caverne enorme qui oh mio dio è vero vabbè no aspetta aspetta no aspetta quelle due davanti le abbiamo viste solo questa qua davanti noi dobbiamo vediamo la nonna anche è vero una fila intera di quattro caverne che strano oi c'è un porco c'è un porco l'ho shottato l'ho fangulo andiamo andiamo in questo andiamo in questo andiamo in questo oh mio dio quante caverne ha chi ma tutto è una una davanti all'altra ma che cazzo in che senso ci sei ovvio oh sì no è avariata vero no è buona che culo non male ok io la carne ce l'ho tutta avariata but ah no questa no 5 vuoi bere un po' che hai sentito? non so oh non mi dire che si scende gigante sto lago aspetta non è che qua magari si trovi il respiratore non lo so che c'è un lago ci sono cazze altri scheletri scheletri ovunque questa quanta gente è morta oh cos'è un molo però è un molo però tom è un piccolo casse varie basta voi ma sono casse le teso ah no devo partire con l'allianto aspetta e niente no l'hai rotto no non mi sono rotto lo spingo arriva lo spingo arriva nono se ti finisce in acqua come mai c'è eh so sprofondato nel coso nel molo sono sprofondato dentro il molo scusami no qua cavi perché non salta aiuto no mi sono buggato ok niente Aki Aki ok son vivo Aki qua sotto gli scheletri appesi così sotto acqua davanti a noi ci facciamo tutto il lago nuoto madonna è per forza è per forza per forza laggiù c'è la caverna anche la coca cola no mi dissometro Zezo dissometro immaranziometro bello ciao ciao Luca certo che avremmo potuto quantomeno vedere nei progetti se si poteva fare una barca non c'è davvero madonna tu sei scemo oh dio ma c'è cosa c'è un alce sott'acqua come un alce sott'acqua si perché c'è un alce l'elicottero oh lo sento anch'io girati credo sia un bug quello dell'alce comunque c'è un alce sott'acqua buggata no 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 non importa dov'è non lo vedo ma girati dietro anche no lo sento che è da davanti ho le cuffie io sono arriva arriva lo sento non capisco là c'è il fumo si lo so è la campionata in indigina eccolo eccolo no 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 dove va sta atterrando però sta atterrando sta atterrando ho visto che stava andando giù vuoto di là eccolo stava c'è di gira in una parte un'altra alce sta girando intorno ah che sta girando intorno in un punto provare ad andare sta girando intorno in un punto no importante importante che fai con l'aliante tu vai dritto sentire il rumore no si sta andando no 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 ti prego no dai ma perché sei stronzo perché dove va però sta sbandando sbaglio ah no sta salendo su e ci hanno lasciati ma cosa mi significa sta cosa poi allora un elicottero ma poi sono della nostra squadra immagino a questo punto andiamo di qua che c'è la caverna non sto capendo poi l'elicottero ha fatto il percorso della caverna che cazzo cosa sto a fare eh aspetta allora dai sali coglione le x blue sono i kart immagino e poi ci sono due punti di interesse qua vicino ma torna quanta roba aspetta vieni il gab gab mamma un alci gigante c'è il kart prendiamolo intanto oh mio dio alberi tagliati oh si il nostro vecchio amico kart c'è si oh mio dio due ce ne sono ovviamente uno basta di due è un macello andiamo allora andiamo verso la caverna no aspetta eh no non li vedi i punti di interesse no eh si guarda qua davanti ci sono dei punti eh però non so guidare io vai un alcio di zoom la mappa non li vedi ah ok un punto interrogativo c'è uno blu e uno è un arancione sono i trasmettitori ovviamente però andiamo 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 a vedere andiamo nella caverna in quello blu abbiamo visto che c'era una caverna in quello di prima ma tu sei un pesce tutto a posto tutto a calcolato tutto a calcolato bella acrobazia ragani clip da fare bellino no tranquillo madonna bravo della parola che fare è la patente ah ma che cazzo sto vedendo l'11 ma è una barca 2021 è il mainstream hai ragione luca scusa se ti vai 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 dio santo ho investito il tizio dai dai covi poi ci sono infezioni no 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 levati dal cane l'hai investito l'hai ammazzato vai 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 investito un punto di terrestre è qui strano sto punto non è un villaggio normale infatti non c'è nessuno non c'è neanche il porto vieni qui vieni qui oh 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 qua sotto minchia altissimo oh fumogeno fumo 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 l'ha lasciato l'elicottero palese andiamo ma cos'è un drop piano ok scendo io c'è la dove scendere a parte che c'abbiamo l'alleante siamo stupidi vabbè vabbè amen sono davanti al fumo c'è un signore c'è un signore no no ma dai no no ma non puoi morire così volevamo aiutarti ma che sfiga d'inverda per una volta per una volta che c'era qualcuno di vivo ma c'è un signore ma forza miseria che fastidio ste cose c'era qualcuno di vivo caverna a chi? sei pronto? vai non mi piace è bullissimo si scende si scende ok sento suoni brutti una struttura è una casa è una casa tipo che non una casa però è una capanna sotto terra certo normalissimo vero vale ma non sto capendo mi hai fatto schiantare no io sto gioco ho una paura matta di ste robe io però ma intanto mi faccio l'armatura di ossa anch'io mamma mia tutta la vita l'armatura di ossa me la faccio completa almeno oh c'è uno zio c'è uno zio attenzione almeno c'è l'armatura completa ragazzi c'è uno qui ok cacchio mi manca un culo un culo ok ok ci sei? aspetta che mi viene l'acquipaggio un attimino perché se no la vita mi esplode c'è l'altro nostro adesivo? no ok dai ahia bombola c'è una bombola no ma è una bombola di casti oddio oh già che cazzo hai visto? cosa hai visto? che cazzo l'imparto? non c'è niente puttana troida il punto si cazzo i teschi li odio sono preso un colpo anch'io sono preso un colpo anch'io sono preso un colpo tre teschi davanti ma qua si scende donna che ansia piano ma quanto si scende? ancora? ancora andiamo senza paura eh sento eh si sento anche gente urlare da prima foto voglio voglio protegge progetto due lampadine due cosi che cazzo è? che cazzo è? è tipo un faro non lo so non fare può essere può essere un fare perfetto oh mio dio quante ossa una tomba una tomba l'ennesima tomba croci vari non è una tomba ok ma non c'è nient'altro no è impossibile no anche è impossibile no dai è troppo strano no no è impossibile questo minerale è sempre pieno oh che? mentesi tu vabbè ma scusa un attimo eh c'è una croce al contrario dove? delle croce questa è al contrario no solo una tutte le croce sono giuste tranne questa è al contrario ma non è possibile che non c'è niente che cosa mi significa sta roba assurdo dai saliamo vabbè saliamo saliamo un attimino no mi ha sciocato ma c'era un'altra porta mi ha sciocato c'era un'altra porta mi ha sciocato la tizia di prima cazzo io volevo troppo volevo salvarlo invece c'è un'altra c'è un'altra porta comunque ah si ah si si l'ho vista prima non qua qua abbiamo fatto tutto qua sopra oh poi no non si può salire oh si 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 può salire dai a questo punto allora che serve è impossibile no controlliamo meglio che impossibile io mi rifi dai perché mi incastro no non è possibile un piatto rotto c'è più piatti rotto bombole qui non c'è niente nastro adesivo no filo boh oh che dire poi c'è una capanna così sotto terra assurdo assurdo no sto capendo ma poi scusami sto elicottero io non l'ho ben capito cioè arriva passa elicottero poi c'è sto tizio che in realtà non è detto che sia collegato all'elicottero il tizio eh per carità però e poi c'è un punto arancione andiamo a vedere il punto arancione a questo punto controlliamo e poi stacchiamo si aspetta il cartel il cartel oh mio dio io non sto capendo io non sto capendo cioè non sto connettendo nulla di tutto ciò madonna poi il foglio quello aspetta Aki dimmi vieni qua cadavere appesi hai lo visto hai lo visto non capisco e sali che ce la fai iai dai di pesce sei già andato al cartel vai prossima andiamo next stop to hardly bellino con questo gioco è pieno di roba ho messito uno scogliato no affascinio se io invece di tagliare seguissi il guarda che sentiero porta direttamente al punto è vero è più o meno almeno grande eh vabbè i cervi i bambi che si mettono in mezzo i bambotti guarda di tre di tanto portavo vai eccoci vai vai ancora vediamo cos'è il continuo intanto il localizzatore qui sono operai vedi che c'è sempre gente diversa però è qua ad aprire è qua ad aprire e infatti sembra il continuo può essere una miniera bravo è una miniera lo stavo per dire non può essere è proprio una miniera è proprio una miniera oh oh mio dio che intersezione di luce intersezione di luce e per un attimo ho visto tutto scusa un attimo oddio aia oh foto un altro foglio quante nuove ossa questa roba questa è tipo un effigie tipo quelle del primo che servono per spaventare i tizi secondo me credo sia la stessa cosa oh sì scotch che bello utilissimo oh mio dio quanto scotch ma che strano no sembra che si sale là sì comunque questa è proprio una una miniera armatura si vede per restare quel minerale eh però sai che ma qua no oh ma dietro di noi c'è una caverna che va vicinissima quella là che dobbiamo visitare perché non l'abbiamo visitata con l'unico obiettivo che avevamo perché poi abbiamo incontrato altri tre punti vabbè dai andiamo in questa caverna che dobbiamo visitarla non è giusto vederle questa chiama salviamo aspetta un attimo no armaturare va bene dai solo quella caverna lì sì 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 e poi facciamo quella allora aspetta ok mi faccio un attimo l'armatura di ossa due me ne faccio ma intendi quella dietro o quella a sinistra quella la nostra quella di prima bravo ok solo una devo farmi di armatura ce l'ho già pronta non posso sannare ho l'armatura completa tu ce l'hai completa l'armatura sì oh che figo c'è il tesco in testa tutto dritto l'ultima caverna ragazzi magari qua c'è il benedetto del respiratore se troviamo il respiratore siamo al posto cos'è ma intanto oh musica la musica mi fa sempre cagare addosso oh rotino cosa il monoruota il monoruota il monoruota ma non me l'aspettavo madonna ascan oddio che figo no vabbè no vabbè il monoruota però è un po' boh adesso possiamo ok ok no andiamo così col monoruota adesso ma che figata c'è qualcos'altro Aki a parte sta musica fighissima no ah l'ho presa cosa la radio ce l'ho guarda oddio possiamo andare in giro con la radio già in mananza ma quanti monoruota ci sono va bene abbiamo l'aliante abbiamo un monoruota poi l'aliante il monoruota il rampino cioè abbiamo di tutto cioè prendilo il monoruota prendilo l'ho preso andiamo usiamolo ma usate il monoruota ma no è lento ma non posso non posso prenderlo si che puoi prenderlo solo che te lo metti in mano basta che lo levi dalla mano ti equipaggi quantos'altro eh no premo ti equipaggi quantos'altro premo il numero U e me lo leva ah si? si scusa ma tu ce l'hai aspetta non credo eh no è vero aaaaa eh no te lo leva no te lo leva vabbè dai abbiamo la macchina niente te lo leva te lo leva che cazzo c'è Virginia oh c'è Virginia oddio non abbiamo i vestiti da dargli vero o no e scappa no 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 piano 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 erca Virginia niente lascia stare lascia stare ti ricordi che scappava questa guarda è andata via no 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 è lì andiamo fai una cosa leva l'arma oh non riesco a levare l'arma come la levo equipaggiaggi in mano qualcos'altro no nient'altro prendi il monoguota la croce no almeno manca è quella no 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 sta scappando che non ce la facciamo a raggiungerla no è lì è lì eh guarda te che scappa sta qua maledetta Virginia guarda che siamo qui solo per te praticamente è la tua famiglia ovviamente aspetta niente ci sta portando lei la caverna o sbaglio vai vieni vieni Aki vieni no 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 sta solo scappando vabbè dai vieni con la macchina che andiamo lì quella cacchio di caverna intanto stiamo facendo tutto tranne quella cosa guarda che qua c'è un cervo già morto tanto salvo qua se si può esatto vieni con la macchina c'è Kelvin vuoi dormire? dormiamo? dormiamo vai dormiamo salviamo e andiamo in mano dobbiamo riposarci adesso sentissimo vai vai indice ecco ma non dormire non più non c'è nessuno sì che c'è no niente mi sapeva c'è un altro vabbè andiamo vale evitiamoli ma non sono riposato io eh eh allora niente non possiamo dormire ma dai ma in monoruota però che cazzo eh lascia gli stati no 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 è vero prendiamo in monoruota piuttosto ok dov'è l'altro monoruota? dov'è l'altro monoruota? andate a te ma che fighi sono i che fanno vabbè ok ce l'ho madonna ma è velocissimo non c'è un po' di veloce le carte un altro po' ok davvero ok molto facile da guidare fa anche luce no no mi sono incassato no dov'è? ok l'ho preso lo posso usare come una torcia ok dove sto andando? eh no vale dobbiamo fare il giro da di qua vieni mi sono incassato col monoruota sto caduto e vabbè mi sali dai porca miseria ma potete morire di sonno? no può essere nel senso che fondamentalmente la vitrale è così puoi morire di sonno però allo stesso tempo no penso che ci diminuisca la forza o delle cose di ma nella vita non è che muori di sonno cioè si dice morire di sonno ma non è che muori veramente no no se non dormi per un doppio tempo muori dai il tuo cervello si fonde scusami si fonde hai capito ho perso in monoruota io sto andando veloce ma lo vedo io nella mappa basta che guardi la mappa si porca miseria stai dicendo vino e per acque ma che ne so cosa stavo dicendo dai vale non riesco a guidare sono impedito nella vita quanto li odi così questo è il sentiero che paura così al buio ha perso in monoruota madonna dopo un po' che lo usi ti apprende una velocità assurda folle sembra di fare mountain bike oddio sono caduto è caduto super violentemente ok sono arrivato io eh vale come cazzo fai non vedo una sega io dov'è caverna qua sotto sali si si mi sali no ricordi altri dottori ma che cazzo dove sto andando dove sto andando non c'ha niente dai alberi del cazzo spero che si è bianco più uno scienziato Gesù monoruota niente Gesù monoruota guardate è meglio di me gagne sta monoruota non c'è mania vado piano dai vale sono arrivato aspetta te oh qua c'è una barca niente ah perché dove cazzo è andato il monoruota guarda che bello Bea guarda paesaggio con la luna bellissimo vaffanculo il monoruota l'ho perso non me ne frega un cazzo non c'ho voglia no non posso barca oh le barca vai andiamo occhio eh eppure mangiare ho fame ultima caverna della giornata esatto cinque brutta atmosfera madonna non mi piace che ansia non mi piace per niente grossissima dai cosa mi piace un sacco il dettaglio delle radici dell'albero che vengono fin sotto terra c'è che torneva ah chi si va su qua si sale rumori che rumori non lo so no ho mangiato sono un coglione che numero è la torcia che numero è oddio vedo un'altra incisione però piano vedo c'è gente si 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 cosa di importante oh si 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 oh mio dio non c'è nessuno no ok che cazzo è cos'è sta roba omini quanti sono uno due tre quattro cinque sono sette sono sette omini sempre con sta forma quadrata sempre sta scatola bimbi ecco ecco un pizzo morto qui tra l'altro proiettili faccio una rivista che non può prendere vai vabbè i bambini ok qua si continua qua si continua vai 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 ok ok boh occhio eh sempre attento uh laggiù vedo luce 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 non so di cosa ma c'è luce non è anch'io non è luce di faro è tipo fuoco ok si c'è un fuoco ma anche di là sono lanterne oh mio dio no paurissima paurissima no 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 i tizi 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 ce la facciamo ce la facciamo questi uccidiamo easy vai ahia che male morto uno donna quanta vita hanno ahia ma non è noccato non è noccato in senso negativo ahia non avanti sono va che cazzo attacca ahia i ahia i ahia crepa merda morti morti dai ci lasci esplorare in pace coglione ole morti tutti morti tutti ok andiamo dove dobbiamo andare dai giù o lì prima qui a che vieni qui avrivo un attimo Quanti pontici sono? Gamba! Sono delle gambe qui Ma che cazzo che posto è? Non sto capendo, non sto capendo niente Qua continua? No, qua non c'è niente, ok Hai sicuro? Sì Vedi qua? Qua c'è un altro bivio? Oppure no? No? È solo colossale No, 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 qua si continua Eh sì, lì si continua, c'è un bivio Andiamo a vedere prima questo e poi continuiamo qui Ecco Ah, ma anche di là No, da di là ci siamo arrivati? No, no, no Sì Di qua, che dobbiamo salire Da qui, da qui, da qui Anche... No, anche di qua vale Da dove hai? Qua No No, qua siamo già andati A questo punto che mi confondo Vieni, vieni di qua Da qua si sale Da qui Vai Io sono stanchissimo Cioè il personaggio Anch'io Il personaggio è stanchissimo Ok, vieni, 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 vieni Vieni, vieni, vieni Mangi una barretta energetica Così recupero un po' Ok Ti aspetto Ma è minerale Che illumina Eh sì, ma l'ho visto che il minerale fa luce Qua... oddio come continua Laggiù c'è luce Luce Aspettami, aspetta, mi vale, aspettami Sono indietro Vieni, 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 vieni Madonna Altro minerale Ma dove stiamo andando? Ma che ne so Stiamo scendendo tantissimo Siamo sotto serra No No No, dai, però, siete stronzi C'è l'altro bivio C'è l'altro bivio Andiamo all'altro bivio Ma sì Qua serve di nuovo il respiratore Sto respiratore di merda, cazzo, ragazzi Dobbiamo trovarlo Che cazzo Magari nell'altro bivio c'è Può essere Eccoci Siamo nell'altro bivio Siamo nell'altro bivio Sì Sì, è questa Vieni, vieni Cos'è? Batterie Proiettili Medicina Cazzo Ok, ne uso una Non c'è niente C'è del minerale Ma non è che lo puoi fare esplodere Levati un attimo Dici Puoi provare No, tirare la bomba Tirala Tirala, tirala, vai Ok Ok Per la scienza Per la scienza 3, 2, 1, go Pa 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 Niente Scusa un attimo Qua 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 Cosa? Qua vale qua C'è un buco Oh Proviamo a vedere se si può entrare No, no Bastardi, ti lasciano spiare Sei sicuro? Eh sì, non si può andare Batteria usata In che senso batteria usata? Ah Dove? Ho usata la batteria io No, non si può andare Che maledetti che siete No, è impossibile Ci serve sto cazzo di respiratore Ci serve sto cazzo di respiratore Madonna, che dupalle Ah, però dai Ci sta Almeno sappiamo quali sono più o meno i punti Faccio Però aspetta Che fastidio sto porco di respiratore C'è un telo Salviamo Vai dormiamo prima Dormiamo Dormiamo Ok, dormiamo ancora Perché devo recuperare bene Non posso più dormire No Ok Bene Continueremo la prossima live Bene ragazzi Dio non esiste Ciao a tutti Ok